Era fondamentale vincere, oggi si sapeva che sarebbe stata dura perché Carpi è venuto qua a difendersi e chiudere spazi e non era facile trovare il nostro gioco, non è male siamo riusciti a sbloccarla e a vincere. Contenti per la nostra vittoria, un po' meno forse per il gioco e contenti anche per i risultati di Inter e Fiorentina. Adesso pensiamo alla Juve. Sicuramente sarà una grandissima partita, penso seguita da tutto il mondo con due squadre che stanno facendo molto bene, con testa a testa, allora che c'è più da dire? Una grande partita che non vediamo quale di giocare. Non so se va alla scudetta ma sicuramente è fondamentale, dopo quella ci saranno altre 13, 14, non so quante partite però sicuramente teniamo di fare bene perché conta tantissimo e sicuramente non sarà facile ma vogliamo provare a fare il nostro gioco e giocarcela contro la Juve. Ci dispiace perché partite così sicuramente ci piacerebbe giocare con i nostri tifosi a fianco, peccato non ci possiamo fare niente e giocheremo anche per loro. Grazie. C'è stata una grande risposta di nostra città con quel poster di Culi e siamo tutti con Calidù.